Purtroppo un problema di martedì e quindi rinviamo a venerdì come sei per presentare la partita, problemi personali. Domenico arriva il Campobasso, Samb che finalmente ottene questa prima vittoria nel 2016 in campo esterno, però penso che ci sia tutte le componenti per fare bene anche contro il Campobasso. Sicuramente, la squadra è determinata per ottenere il risultato anche contro il Campobasso. Il Campobasso è l'ennesima squadra che viene da un filotto positivo e che ci incontriamo quest'anno, perché ultimamente ogni volta che giochiamo con qualche squadra viene sempre da filotti positivi. Daniele, squadra che fuori casa forse dimostra qualcosa in più, a parte contro la Firmana c'è stato, lo potrà per vincere, però è andata bene così. Squadra che si sta preparando nel migliore di modi, ma penso che ormai Palladini abbia preso un po' visione di quello che ha a disposizione. Sì, ormai la squadra è questa, anche con gli ultimi due inserimenti, con questo andremo avanti fino alla fine. Il mister conosce bene la rosa disposizione, anche perché abbiamo cercato di mettergli a disposizione tutto ciò che ci ha chiesto. E quindi adesso sta a loro, con il nostro supporto, portare avanti gli obiettivi prefissati. Ecco, ieri ha fatto molto clamore quest'arrivo di Reginaldo. Certamente si sta allenando, tutti quanti ne hanno parlato. Che c'è all'orizzonte, Simone? No, stiamo valutando un po' la situazione sul giocatore, sia sulle condizioni fisiche, sia soprattutto se il giocatore poi avrà le carte per poter essere eventualmente in un futuro tesserato. Quando parlo di futuro non è detto questa stagione, ma che possa rientrare anche in progetti futuri. Quindi potrebbe essere quel valore aggiunto per la prossima Lega Pro? Ma Reginaldo non lo scopriamo noi. Ovviamente lo riconosce anche il ragazzo, non è in una condizione adesso per poter affrontare nessun tipo di campionato. Lui lo sa bene, sta lavorando mattina e pomeriggio con doppie sedute, con lavori specifici. E vediamo cosa viene fuori, non abbiamo nessuna fretta e nessuna scadenza. Bocca al lupo. Crepe il lupo, grazie.